Nella riunione odierna, 25 gennaio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il progetto di legge concernente la trasparenza delle campagne benefiche legate a iniziative commerciali, stabilendo norme rigorose e pene severe anche per gli influencer. Il primo stimolo a questa iniziativa è scaturito proprio dal loro universo. Dopo il controverso caso dei Pandori Balocco promossi da Chiara Ferragni e le polemiche seguenti alla sanzione dell'antitrust per presunta campagna benefica a favore dei bambini dell'ospedale, regina Margherita di Torino, subito dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, l'imprenditrice ha commentato la decisione di Palazzo Chigi, esprimendo la sua soddisfazione nel vedere il governo intervenire rapidamente per colmare un vuoto normativo. Inoltre, dopo aver inizialmente attribuito le critiche a un errore di comunicazione nelle prime fasi della polemica, l'influencer ha ritrattato, affermando che l'accaduto le ha fatto comprendere l'importanza di disciplinare in modo chiaro le attività benefiche legate alle iniziative commerciali. Ferragni persiste nel riconoscere l'errore e sottolinea che la nuova disposizione governativa consente di colmare una lacuna che, da un lato, impedisce di commettere errori e, dall'altro, evita il rischio che chiunque desideri svolgere attività benefiche in modo trasparente rinunci per paura di essere accusato di pratiche illecite. Il disegno di legge prevede l'obbligo di indicare sugli articoli in vendita gli scopi dei ricavi e l'organizzazione beneficiaria, insieme all'importo o alla percentuale destinata a tali fini. In caso di violazione, sono previste multe che oscillano tra i 5.000 e i 50.000 euro. Nel caso di reiterate infrazioni, è contemplata anche la possibilità di sospendere l'attività per un periodo che va da un mese a un anno.